Nella nostra regione il primo caso sequenziato e confermato della nuova variante Omicron è stato scovato dai laboratori di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio. Il tampone in questione è quello di un 52enne della provincia di Chieti che potrebbe aver contratto il virus in occasione di una manifestazione pubblica a cui ha partecipato fuori regione. L'uomo però non presenta sintomi di rilievo ed è in isolamento domiciliare. Non sono ricoverati nemmeno gli altri tre casi sospetti della variante sudafricana scovati sempre ieri, sempre nel Chietino. A Teramo ieri conferenza stampa di fine anno dell'Istituto Zooprofilattico Caporale che ha ripercorso l'imponente lavoro portato avanti nell'ultimo anno. Un 2021 che ha visto in prima linea costante fino a giugno l'IZS al servizio della macchina sanitaria in piena pandemia da Covid-19. A novembre 2020 abbiamo fatto l'anno scorso 90.000 tamponi solo nel mese di novembre. Ovviamente dicembre e gennaio e febbraio il clima non era molto diverso quindi fino alla fine del mese di giugno siamo stati impegnati sul Covid. Per il resto abbiamo cercato di riprogettare, riprogrammare, seguire i lavori della nuova sede, seguire tutti i lavori d'edilizia che sono pronti. Dicevo prima che abbiamo investito solo per la manutenzione straordinaria 5 milioni di euro e seguire tutti i progetti in essere che sono stati 99 i progetti in atto nel 2021 con una dotazione di 19 milioni di euro di investimenti. La giornata più difficile è stata il 24 dicembre quando abbiamo trovato, il 24 dicembre, quindi i giorni che sono susseguiti, l'inizio di gennaio, quando abbiamo trovato la variante inglese. Perché è stato un evento eclatante, anche quello di suggerire le attività da mettere in atto anche per le autorità locali è stato tutto un lavoro molto molto importante, molto difficile.